Ha vinto l'asta aggiudicandosi il marchio Calcio Venezia, quello per intenderci, della società del Fucco Rablin fallita durante l'estate, spendendo 26.000 euro. Poi la beffa. Gli americani se ne sono fatti uno identico in barba alla giudicazione. Concedo il beneficio del dubbio e del termine in questo caso alla parte americana, perché la parte americana potrebbe magari non essere stata totalmente informata dell'esito di un'asta a cui ha partecipato la precedente dirigenza della società FBC Unione che poi sostanzialmente è l'attuale dirigenza del Venezia FBC. Hanno perso l'asta e non hanno voluto rispettare l'esito di un provvedimento che è stato preso dal curatore fallimentare e dal giudice fallimentare, che mi ha visto vincitore di un'asta in base alla quale io sono pieno titolare dei diritti sul marchio calcistico del calcio Venezia. Ora l'avvocato Scarpa Basteri chiede giustizia ed è pronto a presentare ricorso contro l'operato della nuova società. Sì, ho intenzione di tutelare il mio diritto di cittadino perché ho acquistato un marchio di importanza nazionale perché rappresenta la storia del calcio Venezia e questa cosa qua è nota a me ed era nota a loro e quindi ovviamente intendo agire per la tutela del mio diritto in tutte le sedi giudiziarie competenti. Scarpa Basteri non chiude definitivamente la porta e lascia aperto uno spiraglio lanciando un messaggio chiaro alla dirigenza del Venezia Football Club. Alla nuova dirigenza do un messaggio di apertura nel senso che se la nuova dirigenza iniziasse finalmente a rispettare l'esito dell'asta e decidesse di cambiare denominazione e logo utilizzando magari una denominazione che potrebbe essere Venezia Mestre 1987 che per me è la più rispettosa del volere dei tifosi che segue quella squadra, da parte mia ci sarebbe una ampia apertura. Grazie a tutti.